Diritto amministrativo video lezione numero 38 aggiornamento alla legge 90 del 2024 la legge sulla cybersicurezza argomenti trattati in questa lezione il codice dell'amministrazione digitale disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici gli ordini di distruzione di beni provvedimenti similari il codice del processo amministrativo ricorso gerarchico improprio tipologie di giurisdizione del giudice amministrativo e il giudizio di ottemperanza il codice dell'amministrazione digitale è in vigore dal 25 gennaio 2011 il nuovo codice dell'amministrazione digitale che ha contribuito ad introdurre nella pubblica amministrazione principi di meritocrazia premialità trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti il nuovo cad quindi codice dell'amministrazione digitale rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il decreto legislativo numero 82 aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione il cad è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 179 del 2016 e nelle intenzioni del legislatore la nuova riforma rappresenta il duplice tentativo volto da una parte a completare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dall'altra a rendere più aperto e trasparente grazie al digitale il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino alcune modifiche più significative del cad sono le seguenti il cad si deve applicare a tutte le amministrazioni dello stato e vi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative il cad si deve applicare nel rispetto della disciplina in materia di trattamento di dati personali la pubblica amministrazione deve gestire procedimenti amministrativi in modo da consentire al cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento inoltre tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalla pubblica amministrazione attraverso la quale hanno il diritto di essere identificate dalle medesime pubbliche amministrazioni di inviare loro comunicazioni e documenti e di riceverne dalle stesse per il tramite di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pubblica amministrazione è obbligata ad accettare tramite apposita piattaforma i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico ivi inclusi per i micropagamenti quelli basati sull'uso del credito telefonico il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza integrità e immodificabilità nel 2024 con la legge 28 giugno 2024 numero 90 quindi la legge sulla cyber sicurezza sono state introdotte nuove a nuove disposizioni volte a rafforzare appunto la cyber sicurezza all'interno della pubblica amministrazione e promuovere una maggiore resilienza contro le minacce informatiche le principali novità introdotte dalla legge includono la cyber sicurezza il referente per la cyber sicurezza centro nazionale di crittografia e la disciplina dei contratti pubblici vediamo un attimino cosa si tratta per quanto riguarda la cyber sicurezza le amministrazioni sono obbligate ad adottare misure avanzate di crittografia per la protezione dei dati sensibili in conformità con le linee guida dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale questa misura è volta a proteggere le informazioni gestite dalla pubblica amministrazione da accessi non autorizzati e attacchi informatici il referente per la cyber sicurezza quindi che cos'è ogni amministrazione deve designare un referente per la cyber sicurezza responsabile della gestione delle politiche di sicurezza informatica e del coordinamento con l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale questo referente agisce come punto di contatto unico per tutte le questioni relative alla sicurezza digitale centro nazionale di crittografia la legge ha istituito presso l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale il centro nazionale di crittografia che funge da centro di competenza per tutte le questioni legate alla crittografia in ambito non classificato il centro promuove la ricerca e lo sviluppo di algoritmi crittografici avanzati favorendo l'autonomia tecnologica dell'italia nel settore della cyber sicurezza disciplina dei contratti pubblici viene introdotta una nuova disciplina per i contratti pubblici relativi a beni e servizi informatici impiegati in contesti strategici per la sicurezza nazionale le pubbliche amministrazioni devono tenere in considerazione specifici criteri di cyber sicurezza nella valutazione delle offerte e ove appropriato privilegiare l'uso di tecnologie sviluppate all'interno dell'unione europea o della nato disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 90 del 2024 come già detto è stata rafforzata la disciplina dei contratti pubblici riguardanti i beni e servizi informatici in particolare quelli considerati strategici per la sicurezza nazionale queste disposizioni si integrano con il nuovo codice dei contratti pubblici decreto legislativo 36 del 2023 arricchendono il contenuto con norme specifiche per la cyber sicurezza elementi essenziali di cyber sicurezza la legge appunto del 2024 sulla cyber sicurezza prevede che per determinate categoria di categorie di beni e servizi informatici sia obbligatorio considerare elementi essenziali di cyber sicurezza durante le procedure d'appalto questi elementi sono definiti da un decreto il presidente del consiglio dei ministri su proposta dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale e devono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte in particolare le stazioni appaltanti devono assicurare che le tecnologie impiegate soddisfino standard elevati di sicurezza per proteggere le informazioni e i dati critici gestiti dalle pubbliche amministrazioni nel valutare le offerte vengono privilegiati i progetti che adottano tecnologie di cyber sicurezza sviluppate in italia nell'unione europea o nei paesi aderenti alla nato promuovendo così l'autonomia tecnologica e la protezione degli interessi strategici nazionali responsabilità e obblighi delle stazioni appaltanti le stazioni appaltanti devono verificare che le offerte rispettino gli standard di cyber sicurezza definiti dal decreto in particolare i contratti devono prevedere misure specifiche per la protezione dei dati e dei sistemi informatici durante le fasi del contratto e introdurre clausole di risoluzione o di revisione del contratto in caso di mancato rispetto delle norme di cyber sicurezza con sanzioni pecuniarie severe questi obblighi sono finalizzati a garantire che i fornitori selezionati siano in grado di proteggere adeguatamente i sistemi critici per l'interesse pubblico per quanto concerne il coordinamento e il monitoraggio l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale ha un ruolo centrale nel monitoraggio dell'implementazione delle misure di cyber sicurezza le stazioni appaltanti sono tenute a cooperare strettamente con l'agenzia per garantire l'adeguata protezione dei dati sensibili e per affrontare tempestivamente eventuali vulnerabilità l'agenzia può effettuare ispezioni periodiche per verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nei contratti in caso di in osservanza delle norme sono previste sanzioni che vanno dalla revisione del contratto fino alla risoluzione dello stesso e all'applicazione di multe in particolare nei casi di reiterate violazioni l'impatto sui contratti già in essere la legge del 2024 sulla cyber sicurezza dispone che le nuove normative si applichino anche ai contratti in corso ove possibile richiedendo un adeguato un adeguamento delle clausole contrattuali per garantire il rispetto degli standard di cyber sicurezza aggiornati per i contratti già in essere è prevista una fase transitoria in cui le stazioni appaltanti devono rivedere e aggiornare le condizioni contrattuali in collaborazione con i fornitori per allinearsi ai nuovi requisiti di cyber sicurezza parliamo ora degli ordini di distruzione di beni provvedimenti similari sono provvedimenti che comportano la perdita della proprietà adottati a fini preventivi e cautelari rientrano tra essi gli ordini di istruzione di beni come l'abbattimento di animali infetti la distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive eccetera con le entrate in vigore della legge 90 2024 quindi legge sulla cyber sicurezza che introduce nuove disposizioni in materia di cyber sicurezza si ampliano i casi in cui possono essere adottati provvedimenti simili anche nel contesto della sicurezza informatica atti ablativi in risposta a incidenti informatici la norma introdotta dalla legge 90 2024 prevede che in caso di grave incidenti informatici o violazioni della sicurezza che minaccino infrastrutture critiche la pubblica amministrazione tramite l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale possa adottare misure straordinarie di urgenza tra cui distruzione immediata di hardware o software compromessi e interventi su dati e informazioni sensibili vediamo di cosa si tratta per quanto concerne la distruzione immediata di hardware o software compromessi nel caso in cui dispositivi informatici server o software siano compromessi in modo tale da rappresentare una minaccia immediata alla sicurezza nazionale può essere ordinata la loro distruzione per prevenire la diffusione di malware o altre minacce informatiche per quanto concerne gli interventi su dati e informazioni sensibili cosa dice la norma se viene accertata la presenza di dati o informazioni compromesse che possono essere utilizzati per scopi illeciti può essere disposta la loro cancellazione immediata in casi estremi questo può comportare la distruzione fisica dei supporti che li contengono come hard disk o altri dispositivi di archiviazione l'articolo 10 della legge 90 2024 specifica che l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale all'autorità di intervenire con tale misure ablative nel quadro della tutela degli interessi strategici nazionali questi provvedimenti sono giustificati quando non esistono altre soluzioni per mitigare il rischio associato alla compromissione dei sistemi informatici inoltre la legge prevede che tali atti debbono essere proporzionati alla minaccia e ove possibile preceduti da una valutazione di impatto coordinata con altre autorità competenti parliamo ora del codice del processo amministrativo il codice del processo amministrativo introdotto con decreto legislativo 104 del 2010 si colloca accanto ai quattro codici fondamentali dell'ordinamento italiano civile penale procedura civile e di procedura civile e di procedura penale rappresentando un pilastro essenziale per la disciplina della giustizia amministrativa in italia tra le linee di fondo che caratterizzano il codice del processo amministrativo si segnalano la puntuale definizione della giurisdizione del giudice amministrativo chiarendo i confini tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e delimitando l'ambito di intervento del giudice amministrativo la specificazione delle azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo che includono l'azione di annullamento l'azione di condanna l'azione risarcitoria l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione la compiuta disciplina dell'azione risarcitoria che ha trovato pieno riconoscimento e regolamentazione nel codice del processo amministrativo consentendo ai cittadini di ottenere un risarcimento dei danni derivanti da atti illegittimi della pubblica amministrazione l'introduzione di un'articolata e armonica disciplina relativa al procedimento cautelare che prevede strumenti specifici per la tutela anticipata delle situazioni giuridiche soggettive minacciate dall'azione amministrativa e poi il definitivo riconoscimento della natura giurisdizionale del consiglio di stato quale organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa attribuendogli il ruolo di garante della correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nel 2004 nel 2024 la legge 90 2024 ha portato significativa innovazione al codice del processo amministrativo specialmente in materia di cybersicurezza in particolare l'articolo 11 della legge ha introdotto un nuovo procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni legate alla cybersicurezza che ricade sotto la competenza esclusiva dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale questo nuovo procedimento si integra con le disposizioni del codice del processo amministrativo arricchendo il quadro giuridico esistente con meccanismi che assicurano una risposta rapida ed efficace alle violazioni in ambito digitale tra le novità più rilevanti la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie significative per le violazioni in materia di cybersicurezza con una pena con un range che va da 25 mila euro a 125 mila euro l'introduzione di modalità procedurali specifiche per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni che garantiscono la tutela dei diritti delle parti coinvolte inclusa la possibilità di contraddittorio la collaborazione obbligatoria tra la cn e le autorità giudiziarie quando le violazioni costituiscono anche reato assicurando un coordinamento tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione penale l'attività correttiva del legislatore vediamo un po in cosa è consistita il codice del processo amministrativo è stato oggetto di numerosi interventi correttivi da parte del legislatore volti a migliorarne l'efficacia e l'efficienza tra le novità introdotte negli anni si segnalano il decreto legislativo 195 del 2011 ha introdotto la previsione di una vera e propria sanzione pecuniaria in caso di liti temerarie scoraggiando il ricorso abusivo alla giustizia amministrativa inoltre ha previsto la rilevabilità d'ufficio della nullità degli atti processuali garantendo una maggiore tutela della legalità nel processo amministrativo poi abbiamo il decreto legislativo 160 del 2012 ha riformato il regime della competenza territoriale del giudice amministrativo stabilendo criteri più chiari e rigidi per la determinazione del foro competente questo decreto ha anche ampliato l'ambito oggettivo del contenzioso elettorale permettendo un più ampio accesso alla giustizia in materia elettorale il decreto legge 90 il decreto legge 90 del 2014 poi ha previsto la soppressione a partire dal primo luglio 2015 delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali con sedi in comuni non capoluogo di corte d'appello con l'eccezione della sezione autonoma della provincia di bolzano e poi abbiamo la legge 90 del 2024 legge sulla cyber sicurezza che come già anticipato in tutta questa lezione ha introdotto rilevanti novità in materia di cyber sicurezza direttamente incidendo anche sulla giustizia amministrativa gli articoli 11 e 22 della legge hanno stabilito nuove procedure per l'accertamento e la sanzione delle violazioni in materia di cyber sicurezza con un impatto significativo sul processo amministrativo l'articolo 11 quindi che cosa ci dice questo articolo 11 della legge 90 24 è stato introdotto un procedimento sanzionatorio per le per se specifico per le violazioni legate alla cyber sicurezza da trattarsi scusate in via amministrativa con un percorso definito e accelerato la cn nell'ambito del cpa ha ora la possibilità di gestire direttamente questi procedimenti assicurando che le sanzioni siano applicate con tempestività e nel rispetto dei diritti gli interessati l'articolo 22 della della legge sulla della sulla cyber sicurezza ha introdotto misure di coordinamento tra l'azione amministrativa e quella penale come già detto per i riati connessi alla cyber sicurezza questo articolo appunto assicura che le indagini penali non interferiscono con l'azione amministrativa ma che vi sia una cooperazione efficace fra le due sfere garantendo che la giustizia amministrativa operi in armonia con le esigenze di sicurezza nazionale parliamo ora del ricorso gerarchico improprio il ricorso gerarchico improprio viene proposto nei casi tassativamente previsti dalla legge in alcune ipotesi in cui fra l'autorità decidente e l'autorità che ha emesso l'atto impugnato non esiste un vero e proprio rapporto di gerarchia bensì un rapporto di vigilanza generica tipico ricorso gerarchico improprio è quello previsto all'articolo 203 del codice della strada secondo cui vanno impugnate con ricorso al prefetto i verbali di accertamento di sanzioni alle infrazioni alla disciplina del codice stradale con l'introduzione della legge 90 2024 il concetto di ricorso gerarchico improprio si è esteso anche al campo della cyber sicurezza in particolare per le sanzioni amministrative imposte dall'acn quindi dall'agenzia per la cyber sicurezza nazionale gli articoli 11 e 22 della legge 90 24 delineano chiaramente le modalità di impugnazione delle sanzioni pecuniarie combinate dall'acn per le violazioni delle normative in materia di cyber sicurezza le nuove disposizioni prevedono che in mancanza di un rapporto gerarchico diretto le sanzioni imposte dall'acn possono essere contestate attraverso un ricorso gerarchico improprio questo ricorso deve essere presentato a un'autorità specifica designata dalla legge che ha il compito di vigilare sull'operato dell'acn ma senza esercitare un controllo diretto e gerarchico su di essa la procedura di ricorso segue le linee generali previste per il ricorso gerarchico improprio con la necessità di rispettare termini perentori e di fornire adeguata motivazione per l'impugnazione della sanzione la legge introduce anche specifiche modalità per il ricorso in caso di misure urgenti adottate dall'acn garantendo una protezione efficace e tempestiva dei diritti degli interessati parliamo ora di tipologie di giurisdizione del giudice amministrativo il codice del processo amministrativo individua il contenuto delle tre diverse tipologie in cui la giurisdizione del giudice amministrativo può articolarsi e precisamente giurisdizione generale di legittimità il giudice valuta la sola legittimità dell'atto e la sua immunità dai tre vizi di legittimità e dunque eccesso di potere incompetenza e violazione di legge giurisdizione esclusiva il giudice inderoga al principio del riparto delle giurisdizioni a cognizione anche in materia di diritti soggettivi e giurisdizione di merito il giudice può non solo annullare l'atto amministrativo ma sindacare anche l'opportunità o la convenienza dello stesso e conseguentemente sostituirsi all'amministrazione gli articoli 16 e 17 della legge 90 24 hanno ampliato il ruolo del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le sanzioni amministrative imposte dall'agenzia per la cibersicurezza nazionale e le misure urgenti adottate per prevenire o contrastare incidenti informatici tali misure possono comportare oltre alla tradizionale giurisdizione di legittimità l'applicazione della giurisdizione esclusiva soprattutto quando sono coinvolti diritti soggettivi legati alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni inoltre il giudice amministrativo potrebbe essere chiamato a esercitare una giurisdizione di merito nei casi in cui sia necessario valutare la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure sanzionatorie adottate dall'acn potendo così intervenire direttamente sulla misura sanzionatoria o sulle decisioni amministrative impugnate parliamo ora dell'ultimo argomento di questa lezione di aggiornamento e quindi il giudizio di ottemperanza i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti spontaneamente dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti del giudizio se però una pronuncia giudiziale non viene spontaneamente eseguita la parte che è risultata vittoriosa può far ricorso al cosiddetto giudizio di ottemperanza il presupposto fondamentale per azionare questo giudizio è che vi sia una sentenza un lodo arbitrale o anche un'ordinanza inoltre il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza deve essere passato in giudicato il provvedimento però non deve essere auto applicativo non deve cioè esaurire il proprio contenuto in un effetto demolitorio il giudizio di ottemperanza comporta che il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio della sua attività dunque il giudice può modificare o revocare un atto in contrasto col giudicato o ancora sostituirsi all'amministrazione nell'adozione dell'atto stesso nella prassi accade che il giudice amministrativo anziché emettere egli stesso il provvedimento nomini un commissario ad acta che provvederà ad adottare quanto necessario a fronte dell'inerzia dell'amministrazione con l'introduzione della legge 90 2024 il giudizio di ottemperanza assume una rilevanza particolare anche nel contesto delle sanzioni amministrative legate alla cybersicurezza l'articolo 11 della legge 9024 stabilisce come già detto un procedimento amministrativo sanzionatorio specifico per la contestazione delle violazioni in materia di cybersicurezza affidando alla cn il compito di accertare contestare le violazioni nel caso in cui le decisioni della cn riguardanti l'adozione di sanzioni per inadempienze in materia di cybersicurezza non vengano spontaneamente eseguite la parte interessata può avvalersi del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva delle decisioni sanzionatorie in tali situazioni il giudice amministrativo può intervenire non solo per garantire l'esecuzione delle sanzioni ma anche per adottare misure correttive aggiuntive assicurando che l'amministrazione responsabile adotti tutte le azioni necessarie per rispettare i requisiti di cybersicurezza stabiliti questo può includere l'adozione di ulteriori provvedimenti per rafforzare la sicurezza informatica o la nomina di un commissario adatta che provveda in tal senso